In provincia di Arezzo le richieste sono prevalentemente su dissesti, quindi alberi, rami pericolanti, pali pericolanti e tegoli pericolanti, tutto maltempo causato dal vento. Ore di intenso lavoro anche per i vigili del fuoco di Arezzo che a causa dell'ultima ondata di maltempo hanno dovuto far fronte a numerose emergenze. Una ventina di interventi solamente nella notte tra domenica e lunedì nella provincia di Arezzo a causare maggiori danni è stato il vento. La Val di Chiana in questo momento è quella più colpita, anche per noi abbiamo qualche intervento in corso di un albero che ha costruito una provinciale, è stata appena in questo momento liberata, delle tegole e dei rami sulla zona di Foiano e Castiglione Fiorentino. La sala operativa della protezione civile ha inoltre diramato un allertamento arancione per vento temporale e rischio idrogeologico in tutta la regione sino alla mezzanotte di lunedì. Quando ci sono questo tipo di allertamento è chiaro che il comando attiva tutte le procedure necessarie, nel caso specifico sono state potenziate le strutture sia della sala operativa che anche le strutture operative. Alcune squadre sono state inviate però anche nei comandi vicini perché evidentemente il maltempo ha interessato quelle zone e mi riferisco principalmente a Siena e a Grosseto. Il sindaco di Arezzo infine con un'ordinanza ha deciso di tener chiusa nella giornata di oggi la scuola dell'infanzia Acropoli, una chiusura cautelativa dovuta all'alto livello di rischio a cui è esposto l'edificio per le condizioni di dislivello rispetto al torrente Castro che si trova in prossimità della struttura.